Ciao a tutti ragazzi, rieccoci con un altro video. Quest'oggi ritorneremo su Resident Evil Revelation 2 e continueremo con la modalità Ride. Intanto selezioniamo il personaggio. Allora io direi di continuare con Moira, perché è l'81, magari così la portiamo un pochino più sottimo. Vediamo se in negozio c'è qualcosa da comprare, di buono. Ricarica rapida a livello 7, ma sì, anche questo è buono. Compriamo le munizioni. Il Drake è a livello 81. Per ora tengo il mio, magari con i forzieri riesco a trovare un Drake migliore, dai. Perfetto. Andiamo avanti. No. Bravo, prendetela qua, eccolo. Ole. Allora, il Drake è molto efficace con i coccodrilli, i cosiddetti coccodrilli. E con quelli, ma non ho ancora trovato la chiave. Magno, magno. Ha, schivata, perfetta. Muori. Ottimo, apriamo qua. Andiamo avanti. Ricarichiamo, absolutely. E per ora è tutto ok. Munizioni del Drake. Bene, se mi dovessero servire, tornerò indietro. Andiamo, 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 andiamo. Qui non è uscito nessuno, vediamo qui. Infatti. Fai calmo, ragazzo. Uccidiamoli tu. Mmm, lì ce n'è qualcuno con l'abilità. Morte. A tempo. Tu esplodi. Ah, ah, ah. Ehi. Questo è duro, ragazzi. Perfetto. Facciamo esplodere questo, sennò... Capita che ci vado sopra. Ecco. Simpaticoni. Morite. Ole. Oh, oh. Oh, oh, arrivano. Esplodete. Ole. Oh, mamma mia. Ma tu da dove sei venuto? Ah, uè. Ottimo. Esplodete male, possibilmente. Mamma mia, ma quanto è veloce questo. Oh, stai calmo, eh. Abbiamo la chiave. Bene. Andiamo di qua. Eccolo qua. Muori. Arriva una veloce. Ce la possiamo fare. Forza. Yeah. Oh, anche... Ma sono tutti super veloci. Che cacchio hanno? Magnum, ragazzi. Qua incontro questi. La magnum è super efficace. Oh. Mamma mia, che schivata. Mamma mia. Mamma mia. Per poco non prendevo il martello in testa. Dato il mio martello. Oh. Via, 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 via. Mamma mia. Un'altra schivata. Degna di nata. Ma se io tipo ti prendessi a coltellate... Muori. Ecco, è morto. Mamma mia. Ho finito le munizioni. Abbiamo la chiave, quindi possiamo andare avanti. Ci mancano cinque nemici. Ce la possiamo fare, Moira. Oggi stiamo andando un attimino meglio, Moira. Oggi le stai buscando veramente poco. Ecco qua. L'ho appena detta, eh. L'ho appena detta. Muori. Grazie. Ok, ora arriverà di qua, immagino. E infatti... È super veloce qui. Sì, 59k di magnum, ragazzi. 59k, quando mai? Quando mai? Ottimo, missione del giorno. Finish. Compriamo le munizioni. Io direi di andare avanti, va là. Andiamo a cercare un po' di tesori. Allora... Io mi ero fermata. Che livello sono io? Non mi ricordo più. L'83? No, queste no. Non riuscirei a farla, credo. 81... Beh, possiamo tentarci queste. Mal che vada, muoio. Bini. Ok. Ok, ce la possiamo fare, eh. Rispetto all'altra volta, sono più precisa. Oggi sono... Di luna buona. Allora... Allora, allora. Questa è la mappa che si fa lì. Oddio. Ma perché proprio questa? Le vespe? No. Come mai ti... Oh no, ce n'è un'altra da qualche parte qui. Ecco qua. Ti ho trovata, maledetta. E l'altra dov'è? È qua da qualche parte. Ti ho trovato, maledetta. Io queste qua le odio, perché sono una cosa allucinante. Eccolo qua. Ora capite perché è utile il drake contro questi cocodrilli. Meno male che quel ragazzo mi ha detto che cosa usare, altrimenti non ci sarebbe arrivata da sola, credo. Avrei continuato a usare con le armi. Qua non c'è niente. Abbiamo una chiave, quindi andiamo ad aprire il cancello, la catena, quello che è. Allora, io c'ho paura delle vespe. Oddio, oddio. Stai calmo. Oh! Granata, va. Stiamo calmi qua. Si stanno agitando. Guardalo. Dai! Cazzo, scusami. Oddio. No, deve morire assolutamente quel cocodrillo. Altrimenti la mia partita finisce qui. Perfetto. Munizioni del fu... No, raga! No, raga! Questa mi fa fuori. Questa mi fa fuori. Oddio. Non è possibile. Non è possibile. Io ce la posso fare. Ce la posso fare, raga. Allora, il punto debole è quel bambino che ha lì sopra. Dovremmo cercare di prenderlo. Oh! Non sono morta. Non sono morta. Ok. Abbiamo di nuovo la chiave. Ora vediamo dove è il passaggio. È sopra. Oh! Il forziere. Cacchio, mi stavo dimenticando dei forzieri. Quanti ne ho presi? Due. Quello nero ce lo potevamo risparmiare, eh. Mi sentitevi? Ok. Ok. Eh, vabbè. Datemi il tempo. Ecco. Mamma mia! C'è anche una vespa. Per fortuna era collegata e l'abbiamo trovata per fortuna. Allora, perché ho paura di quelle che io chiamo vespe? Perché mi ammazzano con un colpo e io devo usare i cuori per rivivermi. Ok. Avevo detto che ero più precisa oggi, ma in realtà non cambia niente d'altro giorno. Ok. Munizioni della Magnum, sempre utili. Ultimo forziere. E andiamo avanti. Non ho la chiave, quindi? Dov'è l'altro mostro? L'altro zombie. Oh, ma sei carinissimo. Io ti cecchino. No, non lo prendo. Raga, che bug! Ma... Dai! Ole! E muore! Con un calcio in faccia. Micidiale. Micidiale. Allora. Mamma mia! Sì, 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 sì. Ole! Perfect! Non vedo nessuno. Però ho paura. Ok. Ok. Per favore, muori. silenziosamente, senza rompere i maroni. Soprattutto. Porca merda! No! Ma siete mati! Ma è la combo perfetta questa. Muori! Brucia! Oh! Io sto morendo, ragazzi. E non mi voglio curare per prendere i distintivi. Sappiatelo. Dove è? Dove è? Eccoti! Eccoti! Maleficent! Oh! Mamma mia! Ehi, stai calmo! No, raga! No, raga! No! Non è possibile! Non è possibile! Questo è stato una condanna a morte. Ora, ok, ragazzi. L'abbiamo fatta. I forzili li abbiamo presi tutti. Finish. Ole! Bene, ragazzuoli. Il video di oggi può finire qui. E se vi è piaciuto, mi raccomando, commentate, condividete. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao!